Di rabbia ha segnato il gol del pareggio, 2 a 2. Fino adesso, 2 a 2, qua a Guardiagrele contro la locale Combaccini. Gli animi si stanno riscaldando un po', non ci vogliono stare, c'è pure quel mister che sbraita, si dispiace per il nostro segretario che fungeva da guardalini e che è stato espulso. Grazie.